Uomini e donne, la nuova fiamma di Aldo Palmeri e l'estetista Veronica Di Bella. Oggi ci soffermeremo a parlare dell'ex nonista di Uomini e Donne, Aldo Palmeri, e della sua nuova fiamma. Ricordiamo ai fans di Uomini e Donne che Aldo è approdato in qualità di tronista e che al termine del suo percorso tra Irene Casertelli ed Alessia Cammarota ha scelto quest'ultima. Il tronista in quel periodo era confuso anche perché in studio erano arrivate delle segnalazioni su Alessia che insinuavano che lei fosse già fidanzata. La Cammarota però all'epoca smentì vivamente quelle dicerie e convinse così il tronista a sceglierla su due piedi. In breve tempo Alessia Cammarota ed Aldo Palmeri sono stati protagonisti di una bellissima favola, fiaba che però non si è conclusa con il consueto lieto fine. La coppia in breve tempo ha avuto un matrimonio, un figlio ed un locale da gestire. Probabilmente tutte queste cose messe insieme, più la notorietà, ha contribuito a mettere in crisi Aldo e Alessia che hanno deciso di separarsi. È stato Aldo Palmeri, attraverso un messaggio sui social, a comunicare ai fans di aver tradito sua moglie. Nella nuova stagione di Uomini e Donne 2016-2017, la Cammarota e Palmeri sono stati ospiti nel trono classico ed Alessia ha rivelato a Maria De Filippi di sperare che un giorno possa ritornare con Aldo, perché lo considera ancora la sua dolce metà. Lui invece non era dello stesso avviso. Dopo qualche mese dalla partecipazione come ospiti a Uomini e Donne, abbiamo appreso perché Aldo Palmeri era così determinato a non voler tornare con sua moglie. Ad avvistare l'ex tronista di Uomini e Donne con la nuova fiamma sono stati i fans che risiedono in Sicilia e precisamente a Catania. Pare infatti che i follower si siano indignati per aver visto in giro la nuova coppia insieme al piccolo Nicolò. Ma chi è dunque la nuova fiamma di Aldo Palmeri? Lei è Veronica Di Bella, una ragazza di Catania, sconosciuta al mondo dello showbiz. L'estetista ha 25 anni ed è amica del migliore amico dell'ex tronista di Uomini e Donne e studia all'Università di Catania. A ufficializzare il fidanzamento con Veronica è proprio Aldo, il quale tramite i social ha messo un cuoricino ad un messaggio particolarmente speciale scritto da lei, nel quale dice «La mente mente, il cuore no». Pare proprio che il giovane imprenditore ormai trascorre gran parte della sua vita insieme all'estetista. Inoltre, sembra anche che la nuova fiamma di Aldo sia una presenza fissa nel locale Kipap. I fans però si sono scatenati perché ritengono che la colpa della separazione di Alessia ed Aldo sia stata causata da Veronica. Secondo voi, è lei che ha sfasciato il matrimonio di Aldo ed Alessia? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio